Calcio di rigore! Calcio di rigore sempre su atterramento Mata, Teidi Mata, il primo rigore sempre su atterramento di Mata, per problemi tecnici non è stato ripreso, adesso è ancora a terra addolorante il nostro Teidi, è entrato Mancini Francesco con funzioni di massaggiatore. Per prestare soccorso a Teidi, che è stato atterrato, quando entrano su Teidi entrano molto pesante. Non lo facciamo, non lo facciamo, stiamo sui gli occhi, non è come l'altra volta, capito? Ok, o è netto, se no lasciamo stare, è difficile da vedere, lo vediamo noi qua, per lui sarà difficile. Ecco, è stato atterrato Nicola Perrucci, rettifico, in area di rigore, si è procurato il calcio di rigore che adesso si appresta a tirare, Teidi Mata, sempre con la sua freddezza, Teidi, sul dischetto aspetta il fisco dell'arbitro, rete, rete, doppietta di Teidi Mata, si si adesso l'ho ripreso, ecco, vanno a esultare sotto gli ultras capeggiati da Nicolò, capitano dei giovanissimi, adesso sono venuti tutti a fare il tifo, a caricare i loro compagni, ecco, ripresa del gioco.